STOMP THEM ALL! STOMP THE BAKES! WAG! Ce la stiamo facendo, ho portato leggermente avanti i turni per assaggiare al meglio le difese e per iniziare a danneggiare un po' queste mura, ho perso qualche unità, niente di che, possiamo recuperare e stiamo già recuperando, in produzione c'è un barnabomber, un mech e dei meganubbs. Mentre qua giù, per il momento, mi sto concentrando molto sulla città, in realtà è quello che più mi preme fare, oltre a questo, dunque abbiamo già preso, sì, un impianto per l'energia, perfetto, perfetto. C'è un turno da fare, comunque, sì, eh, c'è un intero turno da fare. Qui utilizziamo il mech, nel frattempo ecco, si è palesata anche la guardia imperiale, possiamo godere di una vista interessante sulle marrasse e due sentinel, e gli space marine hanno calato giù un bastione a difesa. Ma, vabbè, ci interessa poco, ci interessa poco, faremo a pezzi tutto quello che ci capita da davanti, quindi, bastione amica bastione, mi interessa ben poco. Ecco, allora, però una cosa, ecco, una cosa dovrei farla, una cosa dovrei farla. Innanzitutto, si potrebbe valutare il movimento su core imperi in un certo modo, vorrei distruggere prima la fortezza della redenzione. E la distruggeremo, in breve, magari. Spostiamo un attimo indietro. Facciamo di questo. Il nostro, il nostro warboss azog lo riportiamo indietro. Lo voglio curare un po'. Qui, ok, possiamo attaccare qua la battle wagon. E finire il tutto con il secondo warboss. Chi c'è da curare? Il pain boy può curare sia lui che lui, ma... Preferisco curare il nostro mech. E' ok. Dunque, questo per il momento lo lasciamo qui. Qui danneggiamo. Qui danneggiamo. E qui facciamo dei bei danni. Allora, ci portiamo avanti con Garknaut. Emanazione stessa del potere della wag. E... Torniamo di mezzo questo. Vediamo se la guardia poi ci attacca. Se ci attacca, ovviamente, noi ci difenderemo. Però vediamo un attimo, non si sa mai. Magari, attualmente, sono lì di passaggio. Vabbè, qui. Ci sposteremo poi in avanti. Abbiamo... Un livello. Non mi raccordo. Profeta della wag, direi proprio di sì. Sì, 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 sì. Mi piace, mi piace. Non abbiamo... Non abbiamo interno. Passiamo il turno, vediamo un po'. Movimento da parte dei Bikis. Negli stupidi Space Marine. Ci sono fan Space Marine in chat? Perdonatemi, sono un po' cattivo, lo so. Però mi immedesimo, mi immedesimo in quello che gioca. E quindi oggi giochiamo Ork. Noi distruggiamo anche questi maledetti Space Marine. Ok, la difesa forse si sta iniziando un po' a... A sbriciolare piano piano. Facciamo così. Vai. Ma va bene, qui subiamo un po' di danno, easy. Non ci arriviamo ad attaccarla, vero? Stacchiamo qua. Stacchiamo qua. Stacchiamo qua. Belle, belle. Belle scariche di Dakas. Perfetto. Dunque, level up non l'abbiamo avuti, credo. Facciamo questo. Tu. Ah, ecco, guarda cosa possiamo fare. Abbiamo anche le Barnabomb. Va bene. Tenevamoci pronti ad usarle. Città. Allora, allora. Qui abbiamo questo fra un turno nel che mi va bene. Dopodiché direi di espandersi leggermente da qualche parte. È valutabile farlo qui. O andare verso questa zona. Mi piacerebbe andare verso questa zona. Anti-air unit. Ok. No. C'è il meganob in arrivo, comunque sia. Per il momento. Mettiamoci così. E proseguiamo. Così muovono gli apotecari. Granate. Ok. Ok. Squadra assaltatrici. Ci sono ancora... Persone. Ci sono ancora Space Marine che resistono da queste parti. E ci attaccano anche duro sul Warboss. Mi fanno anche dei bei danni. Curiamo. Ok. Sarebbe curioso di provare... No. Non sono curioso perché... Credo che funzioni diversamente. Terminiamo l'apotecario se riusciamo. Perfetto. Ciao apotecario. Tanti saluti. Tantissimi carissimi saluti. Sono molto più resistenti le unità all'interno del bastione. Ok. Ok. Facciamo così. Ha già fatto l'azione lui però. Quindi niente. Muoviamoci davanti. Vai di questo. Molto bene. Vai. Ok. Mmh. 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 Ok Vai Facciamo danni Qui ci spostiamo Perfetto Abbiamo praticamente un'officina Un'officina di mech Qua dietro Pronta a riparare i nostri edifici Le nostre unità Meccaniche Qui Qui indebolirei loro Sono particolosi veramente Ok Ragazzi Ragazzi Mi servite vivi Non puoi fare questo Ok Spawnate altra roba Vindicator un capitano Aia No Non è morto Non è morto Un retreat Curatemelo E voilà Siamo pronti Aspettiamo Allora 50 damage Feel no pain Facciamo così Noi gli facciamo un cavolo Allora 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 Molto resistente Mega nobs Arrivati Spostiamo lì in avanti Ovviamente Non ce la facciamo distruggerli Vai così Allora Vindicator Dobbiamo toglierli di mezzo Level up Level up Con le granate Eh beh Non c'è niente Vai di corpo a corpo Con questo 0.03 Con questo 0.02 Allora Vai di questo Pochissimi danni Per Burner Bomber Però può sparare Successivamente Quindi ottimo Facciamo comunque Un pochettino Di solletico Voglio dire Non di più Cities Allora Facciamo anche uno di questo Per non farci mancare nulla Ok Enter Capitano Si ritira I bastioni Ci fanno sentire tutti Ai 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 Molto male Scorcia Mi sa Vai warboss Ah questo lo potrei anche togliere di mezzo Volendo Iniziamo però a concentrarci sulla città Dai Qui curiamo Quindi andiamo a rimuovere Questo Perfetto E via Curata al massimo Vai attacchiamo Non è grande E' grandiosa però Tic Avanti con i mega noobs Altri danni qua Altri danni qua Altri danni qua Dai così Order city Allora Ci dobbiamo Espandere Assolutamente Qui Sì perché abbiamo occupato tutto il possibile Veramente di tutto E andiamo per la ricerca Dove eravamo arrivati? Quaggiù Allora Deep diggers Grabbing clue per il battle wagon Ok Non male Vedi questo Clear notification And then turn Bene Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Oh Bull greens Guarda imperiale Devono essere Eccoli va Eccoli qui Un pezzettino Manco mi era accorto Figurarsi E io voglio Porre fine A questa Faccenda Perché Core imperie Sta per Crollare Non gli manca Tanto E vai Finiamola Con The weird mob Un warboss Più piccolino Del nostro Skullcrack E gli Space Marine Ci salutano Ah Molto 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 Bene Adios Beh Questo possiamo anche Togliercelo di mezzo Ehi Sono rimasti I bastioni A difesa Possiamo già iniziare A Indebulire Aia Che ho Level up Possiamo curarlo Sì Ok Tanto basta Sono arrivati Potremmo Potremmo Produrre Un altro Duckjet Si potrebbe Tenere in conto Però Anche Qualcosa di questo Vai Ma si Danni Questo Questo non ne fa Tanti Stiamo Un po' Lontani Da loro Vabbè Qui c'è stato Un level up Vai di Questo Allora Quaggiù Eh Quaggiù Ho messo Per il duck Questo Lo mettiamo a dormire Mentre Mentre Qui Vai di Questo Vai di Questo Qua Di Questo Qua Perfetto Ah The Wag is Here Signori Un'ottima Vittoria Cori Imperi Crolla Ma ora Un nuovo Nemico Già Inizia Ad Affacciarsi Venne Anzi A noi E Ci Inizia Già A Fare Danno Altri Space Marine Continuano Ad Arrivare Sono Esuli Rimasti Senza Più Una Roccaforte Sulla Quale Contare Guardiamo Ok Ok Qui Curiamo Idem Su Magari Questo Questo Potrebbe Scendere Vai Vai Ok Ok Qui Ci sono parecchi bastoni rimasti ancora in piedi da eliminare Vai 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 Ah, qui possiamo andare di shop Cosa vendete? Item, questa è una cosa che non abbiamo mai visto E vediamo un po' Vediamo un po' Arbor, danni Ok Ok, hit point Armor, armor Questi costano di più Uh, livello Ok Wow Wow Ok, questo contro gli psichici Ok, anche questo non è male per niente Eh, questo stunna Una granata stordente Questa mi piace molto Questo è un passivo Un oggetto passivo Un artefatto Ok 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 Ci stiamo un attimo dividendo in due Ma Lo facciamo per Fermare qui Eventuali Attacchi della guardia E qui completare l'opera di Sanamento Diciamo così Del Del nord Qui togliamo di mezzo Sto sentinel Bam Tanti saluti Altri Umis Stupidi umis Ah, qui abbiamo avuto il level up Aspetta un attimo Vai con questo Pettiamo in avanti anche il mech Clear notifications Ed un turn Si ritira le marrasse Ma avanzano i bullcreens Che mi attaccano qui In meganoof Con danni Abbastanza Ridotti Dai Bei danni invece al capitano Livello 7 Eh, questo fa male Se fa sentire Allora un attimo Una cosa alla volta Facciamo così Trovare qui un altro bullcreens Ok Uh, quanti danni Bello Buono, dai Facciamo che ci Spartiamo un po' La gloria Fra questi due Eroi E via Bye bye Bullcreens Ce ne sono altri Qui giù Potremmo aver bisogno Di Markanaut Mettiamolo anche a posto Un po' Ma Markanaut Insomma Eh, fa tempo Vai così Buono Vai così E via Ciao capitano Tanti saluti Ah Adoro la wag Adoro questa wag Un attimo Qui facciamo un sacco di danni Porca tra moglie Vai vai Che rumore E vai vai E vai vai Allora Questo si è sanato Praticamente Qui possiamo curare Curiamo Eh, qui c'è ben poco Invece da curare Diversamente Perché Li vedo tutti Abbastanza in forma Abbastanza Tande magari I meganobs Ma sono un po' lontani Vabbè Andiamo a dargli Il cicchettino Che basta Mi puzza però Di una base secondaria Che unità è qui Municipio Celestine Level up Nel frattempo Vedi questo Adesso Finiamo di pulire I bastioni a nord Sperando di non perdere Il duck Cacca gente Sperano fuori Altri space marines No Allora Prima Qui Vediamo anche Una bottarella Meccanica A gorkanaut Che ritorna A splendere Luccicante Qui sarebbe Un po' Uno spreco Uno spreco Ma anche Per forza Ali Oh Lo char Questa nuova zona Puliamo E bye bye Anche a questa roccaforte Level up Wow 112 Hit point 10 di armor Incredibile Markanaut Ok Qui ci possiamo Spostare a sud Direi invece Uh Fuoco Vai Togliamolo di mezzo Perfetto Una hydra In meno Iniziamo ad attaccare Vediamo un po' Eh a me mi sembra Molto da città secondaria Molto da città secondaria C'è proprio il pulso Perfetto non ci arriviamo qui niente no no, non ci arriviamo proprio entorno, vediamo un po' le marrasche arriva le marrasche se ne va pochi danni disastroso i tank basta non fanno non fanno tempo ad arrivare che subito maligni proprio qui ci siamo vai cura, lì va certo che come vi dicevo non fanno in tempo ad arrivare poveracci devo non toglierlo di mezzo quanto meno devo dirlo vai ok ah, fategli male non riusciamo a spaccarlo definitivamente comunque sì, questa è una città minore qui ne vedo altre hai capito la guardia se ne vanno entrambi torneranno torneranno tornano sempre curiamo qui ehi qui qui ho bisogno di te e anche qui possiamo curare ci facciamo così male eh no qui sì però vai spara, spara guarda tiriamo giù con i tank basta vendetta per i tank basta buono così e se ne va un'altra costruzione imperiale qui niente a me non mi faccio fuggire se posso non mi faccio fuggire vai un po' avanti avvis sand speedfreaks blood axe gorkas incredibile questi sono nuovi importanti importantissimi un po' attenta è già mosso però sì mi rimani solo tu dato che qui non ce la fai attacchi lui aspetta no non ce la facciamo comunque lo danneggiamo un po' di più però un altro attacco non lo può fare a me i mech li ho già usati qui ci sarebbe il punto interessante ma adesso voglio vedere cosa c'è a sud cosa staranno conservando così gelosamente queste guardie disperate al punto tale da mandarci contro due le marras lo scopriremo ma lo scopriremo nel prossimo episodio perché per oggi ci fermiamo qui corimperi è soltanto un antico ricordo ormai è tornata questa zona è tornata ad essere semplicemente un cumulo di macerie e crateri giganteschi quasi inabitabile ora ci spingiamo verso sud dove incredibilmente è fresco non è come da noi insomma il polo sud sicuramente è freddo ma qui semplicemente ci spostiamo in una nuova zona un combattimento tra delle lussureggianti foreste innevate qui però ci intravede qualcosa ci intravede qualcosa il nostro warboss è soffiuta nell'aria l'odore di paura degli umani gli umani ci temono e stiamo arrivando fanno bene a tenerci perché la UAG Skullcrack non si fermerà dinnanzi a nessuno non l'ha fatto davanti ai più grandi e valorosi guerrieri dell'umanità gli Space Marine non lo farà neanche contro la guardia imperiale signori vi ringrazio spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci risentiamo alla prossima ciao a tutti e a presto grazie a tutti